Cordoglio in Friuli per la scomparsa a 77 anni di Marzio Strassoldo, docente universitario, già rettore dell'Ateneo Friulano e presidente della provincia di Udine. A lungo protagonista della vita culturale e politica del Friuli, Marzio Strassoldo viene ricordato oggi come accademico, autonomista, convinto sostenitore della lingua friulana e attento accompagnatore dello sviluppo del territorio, docente universitario, rettore dell'Ateneo Friulano dal 1992 al 1998 e presidente della provincia di Udine per quasi due mandati a partire dal 2001, si è spento ieri sera nel suo castello nell'omonima frazione di Cervignano a causa di un male incurabile, aveva 77 anni. Ad esprimere il cordoglio della regione è la presidente Deborah Serracchiani. Il professor Strassoldo afferma fu un autonomista convinto, un paladino della Marilenge, un difensore della specialità, anche se non ho mai condiviso la sua visione di una regione divisa in due province separate, voglio riconoscere la lunga coerenza e la tenacia con cui ha condotto la sua battaglia. Molto sentito è il ricordo di Pietro Fontanini, numero uno di Palazzo Belgrado. Un uomo coerente che ha sempre lottato per la crescita del Friuli per difenderlo e valorizzarlo rispetto a Trieste. Dell'operato di Strassoldo, Fontanini evidenzia in particolare l'impegno per l'unità del Friuli. Si è battuto contro l'istituzione della quinta provincia, quella di Tolmezzo, vincendo contro Illi. Una provincia che avrebbe ulteriormente disgregato il Friuli e poi l'attenzione per la Marilenge. Strassoldo, ricorda Fontanini, ha messo in rilievo come la diversità linguistica sia elemento di ricchezza culturale ed economica. Marzio Strassoldo fu convinto assertore di un autonomismo pragmatico che, come rettore e come presidente della provincia, coltivò nell'interesse dello sviluppo del Friuli. Così Matteo Tonò, presidente di Confindustria Udine. Di questo impegno furono espressione l'azione svolta dall'università nella promozione della diffusione dell'innovazione della ricerca, che si tradusse nella costituzione del consorzio Friuli Innovazione, poi trasformatosi nel parco tecnologico Luigi Danieli, disegno cui contribuì la partecipazione attiva di Confindustria Udine, e la ricerca di un ruolo distintivo della provincia di Udine, in particolare nel settore delle opere pubbliche e della viabilità. Uno dei temi caratterizzanti la presidenza di Strassoldo al vertice della provincia, prosegue Tonon, fu quello relativo al rapporto tra ambiente e industria, in particolare nella prima parte degli anni 2000, quando emersero forti criticità che misero a rischio la continuità produttiva di industrie strategiche della carta e della siderurgia, e le prospettive attrattive e di importanti zone industriali della provincia. Strassoldo e la sua giunta si adoperarono affinché venissero individuate soluzioni concrete e realizzabili. Una figura che ha segnato incontrovertibilmente, conclude il presidente di Confindustria Udine, l'ultimo ventennio del Friuli, e di cui è stato protagonista.